La nazionale femminile di basket arriva a Napoli e scenderà in campo al pala barbuto in entrambe le occasioni alle ore 19, il 24 novembre contro la Svizzera e il 27 con la Slovacchia nella sfida che con ogni probabilità deciderà la prima classificata del Girone H. Tutte le attività previste nella settimana che la nazionale trascorrerà a Napoli sono state rese possibili grazie alla disponibilità e alla collaborazione del basket Napoli, del presidente Federico Grassi e del comitato regionale Campania presieduto da Antonio Caliendo che ascoltiamo. Ci stiamo provando ed è bellissimo e la prima cosa che mi viene da pensare è emozione, questa è la prima parola, quindi un evento del genere, due partite consecutive, provare a coinvolgere Napoli insieme penso che sia un buon inizio considerato anche quello che abbiamo passato nei precedenti due anni, quindi credo che con la condivisione degli intenti e l'impegno di tutti penso che qualcosa di buono si possa fare. A fare gli onori di casa a Palazzo San Giacomo l'assessore allo sport Emanuela Ferrante. La nazionale femminile dopo la pallavolo ha anche il basket, sono felice davvero che riusciamo ad ospitarle per queste gare di qualificazione agli europei dove speriamo davvero che riusciremo a raggiungere grandi risultati. laddove non riusciamo purtroppo ad ospitare le gare ufficiali perché sapete bene abbiamo impianti che non sono purtroppo stati costruiti a norma, proviamo almeno comunque a portare un po' l'eco di quelli che saranno queste grandi manifestazioni sportive. Quindi davvero felice in particolare poi perché sono donne e perché è importante che anche nell'universo sportivo femminile sia raggiunta quella parità che ancora purtroppo non c'è.